Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di monete di valore. In questo video cercherò di rispondere ad alcune domande che mi vengono fatte continuamente sotto alcuni dei miei video. Bene, parliamo quindi della moneta da un euro italiana, ovvero quella con l'uomo vitruviano, e cercherò di rispondere a diverse domande, tra cui se ci sono dei particolari errori di conio da ricercare, se ci sono delle annate che sono più rare delle altre, e quali sono più o meno i valori di queste monete. Perché secondo alcuni siti, alcune piattaforme molto molto famose, ci sono delle monete che hanno dei prezzi altissimi. Sarà vero? Sarà la solita leggenda? Cerchiamo di spiegarlo durante questo video. Iniziamo col dire che la moneta da un euro italiana è rappresentata dall'uomo vitruviano, un disegno di Leonardo da Vinci. Sopra l'uomo vitruviano troviamo il monogramma italiano RI che sta per Repubblica Italiana. Sul lato sinistro troviamo la piccola R della Zecca di Roma. Sul lato destro troviamo l'anno di coniezione che nel caso di questa moneta è il 2007. E poi sulla settima stella, ovvero dopo la sesta c'è la settima stella, troviamo una piccola sigla che, facendo attenzione, è LC. Che sarebbero le iniziali dell'autrice della moneta, ovvero Laura Cretara. Bene, iniziamo con sfatare il primo mito dell'errore di conio. Secondo alcuni ci sarebbe un importante errore di conio dovuto alla mappa. Su alcune monete la mappa è rappresentata in un certo modo, su altre monete la mappa è rappresentata in un altro modo. Un po' come quello che c'è tra queste due monete. Se vedete ci sono sulla moneta a destra delle nazioni in più. Bene, chi colleziona euro sicuramente starà anche ridendo. Mentre per chi non è appassionato di monete si starà chiedendo per quale motivo ci sono queste differenze tra le due mappe. Secondo alcuni ci sono... Questo sarebbe un errore di conio. Perché? Perché... Qualsiasi piccola stupidaggine che viene trovata differente tra una moneta e l'altra, per alcuni si grida subito all'errore di conio. Bene, questa è una cosa completamente sbagliata. Non è che ogni moneta ha un errore di conio e quindi ha un valore elevatissimo. Poi, nel caso specifico della mappa, non tutti sanno che dal 2002 al 2007 le monete sono state cognate con questa mappa. Mentre tutte le monete che sono state cognate dal 2008 ad oggi presentano questa mappa. Qual è il motivo? Il motivo sta nel fatto che, a partire dal 2008, è stato deciso di aggiungere alcune nazioni sulla mappa che ci troviamo sulla moneta perché sono delle nazioni che hanno fatto parte... sono state incluse nell'euro. Quindi iniziamo a sfatare questo primo fantomatico errore di conio. Ci sono degli errori di conio particolari da ricercare in questa moneta? No, assolutamente no. Non ci sono degli errori particolari riconosciuti. È possibile che ci sia qualche dettaglio mancante tipo... Manca una stella, due stelle, tre stelle... Allora, iniziamo col dire che tante monete sono fatte davvero molto molto male. Ok? Quindi è possibile che in alcuni casi ci sia una stella in meno, due stelle in meno, tre stelle in meno... Capita? Sì, non è che la stella manca. Praticamente quando la moneta è stata coniata, il conio probabilmente era stanco e quindi non ha impresso correttamente la stella sulla moneta. Questo può attribuire un valore aggiuntivo alla moneta? Per alcuni sì, per alcuni no. Iniziamo col dire che se la moneta è circolata non la vuole nessuno, nemmeno se fosse piena di errori di conio. Perché? Perché il collezionista ama collezionare le monete perfette. Quindi, questa è una moneta circolata, anche questa, no? Facciamo il caso che questa moneta fosse con 5 stelle mancanti, non avrebbe alcun valore aggiuntivo. Perché? Perché è una moneta circolata, perché a guardarla così è davvero terribile. Ok? Terribile non per chi si avvicina magari alla numismatica oggi, ma per i collezionisti, ovvero quelli che escono il cash e sono disposti a comprare la tua moneta. Va bene? Perché? Perché alcuni euro di conio sono davvero ben pagati, però a patto che le monete siano perfette. Io non spenderei mai un euro in più per acquistare una moneta che magari è circolata perché è piena di difetti o ammaccature. A meno che non si tratti di un particolare errore di conio riconosciuto che è presente sui cataloghi numismatici e quindi magari possa davvero avere un valore perché rappresenta una rarità. Continuiamo a parlare degli errori di conio, però. Quindi se la moneta manca di una o più stelle, se la moneta è circolata, non ha nessun valore aggiuntivo. Se la moneta invece fosse un fior di conio, già mi aspetto questa domanda. Bene, in quel caso il prezzo, il valore della moneta lo fa il mercato. Che cosa significa? Che se tu proponi in vendita la tua moneta con il tuo errore di conio, ci potrebbe essere qualcuno interessato che magari ti offre un euro in più, due euro in più, una cosa del genere. Ma potrebbe essere anche il caso che nessuno sia interessato alla tua moneta. O perché l'errore di conio non è importante, ma soprattutto perché nel caso delle monete da un euro, sono davvero poche le persone che collezionano le monete da un euro. Infatti se tu ci fai caso, la maggior parte delle persone collezionano le monete da due euro. Perché? Perché esistono tantissime monete commemorative e quindi effettivamente sono belle da collezionare. Per quello che riguarda invece le altre monete, come quindi quella da un euro, cinquanta centesimi, eccetera, eccetera, esistono solo le diverse facce nazionali. Quindi magari uno si è contento di avere una singola moneta per ogni nazione e basta. Continuiamo a parlare della rarità adesso. Vediamo un attimino se ci sono degli anni più rari degli altri che magari potrebbero avere un valore maggiore. Senza perderci in chiacchiere, ti dico subito che dal 2002, che è il primo anno in cui è stata coniata questa moneta, fino al 2017, ci sono talmente tante monete che non danno nessuna particolare rarità a questa moneta. Sono stati coniati talmente tanti pezzi che rendono questa moneta molto ma molto comune. Per quello che riguarda invece gli ultimi anni, 2018, 2019 e 2020, sono state coniate per la circolazione meno di un milione di pezzi per ciascun anno. Cosa significa? Significa che se la tua moneta è circolata, varrà sempre comunque un euro. Ma se la tua moneta è in fior di conio, magari tra qualche anno potrebbe avere un valore aggiuntivo. Cosa intendo per valore aggiuntivo? Magari tra 10, 15, 20 anni una moneta in fior di conio potrà avere un piccolo valore, ma solo se la moneta è in fior di conio. Ti ricordo che è il fattore indispensabile affinché la tua moneta possa avere un reale valore aggiuntivo. Per quello che riguarda invece il 2021 e il 2022, al momento non si conoscono ancora le tirature, ovvero non si conosce ancora quanti pezzi sono stati messi in circolazione. Molto probabilmente parliamo sempre di circa un milione di esemplari per ciascun anno, però non è un dato che è stato ancora dichiarato. Lo scopriremo probabilmente tra qualche mese. Quindi ricapitoliamo un attimino il tutto, velocemente. L'errore di conio fantomatico tra le mappe differenti non esiste. Ok? Perché? Perché partire dal 2008 è stata utilizzata una mappa diversa da quella che si usava fino al 2007. Quindi questo non è un errore di conio. Non ci sono degli anni particolari da ricercare perché in ogni caso si tratta sempre di moneta comune o addirittura molto molto comune. Soprattutto quella del 2002 che è stata la prima moneta coniata per quello che riguarda gli euro in Italia e di cui esistono addirittura 965 milioni di monete. Quindi un'infinità. Quindi quella moneta del 2002 in particolare non avrà mai, mai, mai un valore aggiuntivo. Tutte le monete circolate valgono sempre solo un euro. Fantomatici errori di conio con stelle mancanti non sono al momento ricercati a meno che le monete non siano in fior di conio. Per chi non lo sapesse fior di conio vuol dire che la moneta è praticamente perfetta come se fosse uscita dalla zecca praticamente ieri. Invece una moneta circolata è una moneta che ti è stata data come resto al supermercato. Una moneta come questa che è stata maneggiata più volte, più volte, più volte e quindi presenta tantissimi segni di usura e graffi. Quindi per quello che riguarda questa moneta da un euro credo che non ci sia altro da dire. Se hai domande su questa moneta scrivile pure tra i commenti. Io cercherò nei miei limiti di aiutarti e di rispondere a tutte le tue domande. Spero di aver fatto chiarezza in vari punti. Spero di aver chiarito tutti i tuoi ipotetici dubbi. Se così non fosse ti invito nuovamente a scrivere le tue domande nei commenti. Bene, per quello che riguarda questo video, secondo me ho detto tutto. Ti ringrazio se hai seguito il video fino alla fine. Se il video ti è piaciuto e ti è stato utile clicca un bel like, magari condividilo con i tuoi amici. E se non sei ancora iscritto al mio canale iscriviti per non perdere i prossimi video. Se c'è una moneta in particolare di cui vuoi risolvere i tuoi dubbi oppure di cui vuoi conoscere il valore scrivilo nei commenti, io cercherò di accontentarti il prima possibile. Se vuoi seguirmi anche su Telegram, nei link in descrizione troverai il link al mio canale Telegram. Puoi seguirmi anche lì. Bene, adesso non mi resta che salutarti, augurarti buon collezionismo. Un saluto a tutti. Ciao.